Buongiorno, buon pomeriggio anche ai telespettatori di Telequattro, benvenuti alla diretta che anticipa il telegiornale delle 13 e 20, siamo in compagnia di Serafino Marchiò Lunet che è il Presidente di Arsac Europa, che ringrazio per essere tornato nei nostri studi, per riprendere per certi aspetti un discorso che avevamo interrotto l'ultima volta che ci eravamo visti, ci eravamo visti per presentare il nuovo ciclo di escursioni lungo il Timavo e in quell'occasione ci eravamo lasciati appunto accennando ad un'alleanza in chiave turistica con le grotte di San Canziano, mi pare che questa alleanza è stata sottoscritta, è stata sottoscritta esattamente, come funziona allora l'idea? Diciamo che è una promozione turistica del territorio e questa alleanza col parco delle grotte di San Canziano che era rappresentata da Polona Covacis che è il generale e l'abbinamento fra il Timavo e le grotte di San Canziano avviene in modo particolare perché il fiume veramente nasce in Croazia, poi si inavissa nelle grotte di San Canziano, percorre un pochi di chilometri e riemerge a San Giovanni di Duino e quindi è ingriottito dalle voragini della grotta di San Canziano. Che la grotta di San Canziano, devo dire la verità, adesso per l'amore di Dio, fa un po' di, non di paura, devo dire, io mi ricordo che da bambino sono andato a vedere la grotta di Postumia che francamente anche per via del trenino eccetera non mi pareva niente, devo dire la verità che San Canziano era un po' abbastanza impressionato proprio dallo stesso fiume. Diciamo che è una voragine in sostanza, no? Perché si inavissa e c'è… E' un po' sì. E' così, è molto, c'è queste grotte che sono conosciute dappertutto in tutto il mondo in sostanza, però le grotte del bacino dell'Alto Adriatico rappresentano in sostanza dei punti nevralgici di un ecosistema unico che necessita di una gestione integrata e sostenibile fra diverse realtà locali e internazionali. E' quindi al fine di tutelare e valorizzare un patrimonio naturale che unisce storicamente e culturalmente le comunità delle regioni. Il fiume Timavo, con il suo percorso misterioso e affascinante, continua a essere un simbolo di continuità e cooperazione tra i popoli. Diciamo detto il fiume che unisce i popoli, perché in sostanza quest'anno l'abbiamo fatto con la Slovenia e stiamo lavorando il prossimo anno per fare proprio questa unione anche con la Croazia, dal Monte Nevoso, eccetera. Come poi si concretizzerà a livello di iniziative? Ma a livello di iniziative diciamo che ci scambiamo questo accordo, prevede tra l'altro che alle grotte di San Canziano vengano distribuiti questo nostro percorso e viceversa. Con l'invito praticamente uno dice fai, vedi il Timavo quando entra e vedi il Timavo quando esce. Ecco questo abbiamo iniziato, sono stati molto molto disponibili e diciamo che quest'anno è stato proprio l'avvio, ma nel prossimo anno vedremo proprio di fare una collaborazione più ampia. È possibile, adesso so che il discorso è probabilmente ancora a livello di accordi, eccetera, però è possibile immaginare anche magari a San Canziano delle iniziative del genere, non voglio dire luce e suoni, ma comunque qualcosa di questo genere sarebbe… Oddio, sarebbe possibile. Anche sarebbe affascinante. Sarebbe anche affascinante, chiaramente, sì, sì, tutto succede, adesso non ho idea perché è tanti anni che non vado alle grotte di San Canziano, però comunque penso che abbiano un bel percorso, con le caverne, eccetera, però non lo so quanto sia illuminato, cioè perché noi vediamo luce e suoni, sono luci, eccetera, però lo spettacolo di Cessoni è teatrale, quindi spiega, non so come sarebbe presente, però si può provare… Ci puoi pensare, insomma, poi tra l'altro… No, 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 ma io l'ho già pensato, figurati. Volevo arrivare anche a questo per dire la verità. Che poi vedo che sta veramente… Il timavo, beh, da anni che succede, ma ho visto anche oggi sul piccolo che sono venute dalla Francia, cioè è ancora misterioso, tra virgolette, no? Perché si sa che passa a certi punti, ma non si sa da altre parti, no? E questo è positivo perché così si sta risvegliando questo fiume, no? Questo l'idea… Tu sei sempre, diciamo, interessato e attento a questioni che hanno a che fare con il turismo nei luoghi proprio… Nei luoghi fisici e anche naturali più rappresentativi, no? Sì. E' un'idea che, come dire, in alcuni paesi, mi pare che mi dicevi, in Francia soprattutto è dove è nato, fra l'altro… Sì, sì, dove è nato, nel 1956… Ah, quindi anche abbastanza recente come… Sì, sì. Ma per esempio, possono esserci delle difficoltà anche burocratiche per quanto riguarda avere a che fare con un altro Stato oppure fondamentalmente non è nemmeno così insormontabile? Fondamentali perché, diciamo, se mettiamo il caso che sia di interesse e sia fattibile, perché, sai, noi parliamo di fattibilità, poi dopo bisogna vedere gli impegni tecnologici e tutto il caso. È una macchina che ha un costo notevole, no? Sì. No, non è il discorso tra Stati, perché sarebbe un'iniziativa molto buona anche per loro, però vi serve vedere un attimino, perché si parlava appunto con la direttrice che non è che si vuole un turismo di massa, ci vuole portare avanti come noi, un turismo culturale, delle persone che vengono lì per ammirare la natura, eccetera, e questo è nel discorso. E loro siamo sulla stessa linea, sulla stessa sintonia. Da quel punto di vista, quindi. Sì, perché loro hanno un parco che è meraviglioso. Poi è il Carso, no? È il Carso che si espande totalmente. Quanto tempo ci avete lavorato per arrivare a questo accordo? Oppure anche in questo caso è stato fondamentalmente più semplice di quanto si potesse pensare? No, c'è stato un anno di fare i contatti, trovare i contatti giusti, le persone giuste, e dopo abbiamo fatto un incontro alla direzione delle grotte, ci siamo scambiati un po' le opinioni e poi loro sono venuti qua da noi a vedere effettivamente cosa c'era e abbiamo fatto questo accordo. Ok, che è stato siglato quando, tra l'altro? È stato siglato, sì, qualche, mi sembra il 19 di luglio. Il 20 di luglio, sì. Poco prima o poco dopo che noi ci siamo visti? Sì, poco dopo che ci siamo visti, sì, diciamo una settimana dopo circa. Com'è andata quest'anno, cambiamo un po' argomento, come sta andando? Ma, a dire, sta andando molto bene, no? Perché noi abbiamo, diciamo, tre barche a disposizione, che ognuna barca porta sette escursionisti e diciamo che la media di quest'anno, posso dire la media dai 16 ai 18. Però abbiamo riscontrato, per esempio, che il lunedì è piuttosto negativo. Non riesco a capire perché, a parte l'altro lunedì che era impossibile, chi vuole che prenoti con quell'allarme meteorologico. Però quest'anno abbiamo fatto il lunedì, mercoledì e sabato e il prossimo anno penso che ci orienteremo sempre, mercoledì, venerdì e sabato. E' anche vero questo, no? Che questi, quando si organizzano iniziative di questo genere, poi sono anche di anno in anno flessibili, no? Nel senso si vede come funziona. Si vede, è totalmente flessibile, no? Perché poi si fa la statistica, si vede un attimino anche come gestire, no? Per esempio, è molto successo quello dei due ragazzi, gli attori che raccontano la storia. E questo è molto successo, la gente è molto interessata. Poi ci racconto una curiosità, è venuta una troupe d'ORF austriaca, della Carinzia, che hanno fatto un bellissimo servizio. E parlavano dei pedoci, perché hanno fatto anche la parte gastronomica, eccetera. E sono venuti due austriaci l'altra settimana, che non hanno chiesto come è il giro, hanno chiesto dove si mangia i pedoci. E allora, vedi, sono quelle cose, però fa colpo, no? Cioè, è diventato da una nostra idea, abbiamo avuto servizi con Ter Capodistia, l'Austria, eccetera. Ma, senti, è sempre più essenziale, no? Per certi aspetti, questo tipo di manifestazione dove non ci si accontenta, mettiamola così, di raccontare la storia, di raccontare la natura. Bisogna assolutamente inserire tutto ciò, anche dal punto di vista, diciamo, narrativo, mettiamola così, in un contesto che è fatto anche di tradizioni, che è fatto anche di cibo, che è fatto anche di enoastronomia, eccetera. Credo che questo sempre più sia la strada da percorrere. Ma, difatti, viene perché, per esempio, c'è lì alla Canocciada, che è un, diciamo, un miti turismo, un chiosco, diciamo, di pesce, che, per esempio, il periodo delle Canocce hanno un piccolo peschereccio che va a buttare le nasse, vengono dalle nasse e vanno a finire in cucina, no? Ecco, quindi c'è già un aggancio. Tutto questo porta a un certo tipo di aggancio enogastronomico, eccetera. Poi un esperimento, lo dico così qua, ma che ha fatto De Narduzzi, ha imbottigliato del vino e l'ha messo sott'acqua. Ah, sì, questo lo ricordo. Questo lo ricordo. E si sta un po' vedendo come fare, insomma. Ovviamente una domanda che adesso mi è sfuggita, ma sì, la recupero. Voi parlate anche in qualche modo con i turisti? Avete modo di scambiare qualche parola, eccetera? No, no, sicuramente sì, perché noi abbiamo il ritrovo alle ore 10, lì alla Canocciada, no? Lei si contatta, non si controlla, eccetera. E si parla. Quest'anno sono venuti, cioè, sono venuti, sì, triestini, ma sono venuti anche da fuori. Questo mi ha fatto piacere. Penso che siano due che sono venuti dalla costa amalfitana. Ma quelli, per esempio, che arrivano da fuori Trieste, che idea, secondo te, si fanno della città? Cioè, avete capito cosa gli piace di più, cosa non gli piace, perché potrebbe anche darci? Cioè, con quale idea di Trieste poi vanno via? Ma io penso, a parte quelli che vengono esclusivamente discorso culturale, musei, eccetera, però la maggior parte che fa impatto è l'enogastronomia. Vanno via, perché vedono delle cose, non so, a Smizza, non so, a Milano, per dire Milano. E vanno via con questo territorio che è il Carso, il mare soprattutto, questa vicinanza che dal mare passano sul Carso, che sono due mondi diversi, però questo mi ricordo quando l'avevamo fatto a Portovecchio sul magazzino 26, che c'era Labora e il Carso, due che parlavano fra di loro, perché c'è un… cioè, quando va via uno da Trieste, vede il mare e il Carso. E i triestini invece che cosa vengono a scoprire o a riscoprire eventualmente? Ma la maggior parte dei triestini non sono… non sapevano neanche dove il villaggio pescatore o quasi per andare a mangiare il pesce, invece in realtà, e questo è molto vale passaparola, le gente triestini vedono questa meraviglia, perché a un certo punto vai su per il Timavo, sembra di essere in Amazonia, anche senza tanta fantasia, perché si vede… cioè, si immerge nella natura. Quanto tempo dura la… Dura un'ora e venti. Ok. Con soste? Allora, no, diciamo che sì, c'è brevi soste. Praticamente si parte dal villaggio pescatore, da Marina Tinavo, verso Duino, si passa a Duino, si ferma, si spiega alla gente della questione della Dama Bianca, che quella è conosciuta, però non tanti l'hanno finita, mai visto dal mare, se uno non ha la barca, non la vedi. Poi il castello di Duino e si arriva fino a Porto Piccolo, entrano nel Porto Piccolo, si chiede l'autorizzazione e abbiamo ottenuto ultimamente anche dalla regione e dal comune l'autorizzazione a entrare nelle Falesie. Ah, ho capito. Quindi possiamo andare più sotto costa. Poi dopo si vanno a vedere le coltivazioni di demopedocci, anche se è più coccolo, e poi dove ci sono l'acquicoltura. Ho capito. Ecco, poi dopo si bocca al Timavo, scendono su un approdo che abbiamo fatto, c'è un piccolo sentiero che porta alla chiesa di San Giovanni in tuba. Ho capito. Al di fuori, lì ci sono i romani che spiegano questo e questo, poi entrano lì e rientra al Timavo. Senti, quanto dura ancora l'iniziativa? Fino al 15 settembre. Quindi ancora 3-4 settimane. Sì, però abbiamo delle richieste che devono essere confermate il 21 e il 26 che si è a contatto delle scuole per delle scolaresche. Ah già, perché nel frattempo le scuole ricominciano. Quest'anno per esempio si muovono i gruppi, per esempio c'è un gruppo di 20 persone, abbiamo fatto delle promozioni. C'è ancora posto qualcosa per le prossime escursioni? Sì, faccio esempio domani abbiamo 18 persone. Come ci si può prenotare? Come ci si muove? Tutto quanto viaggia tramite TickenPoint. Ok, c'è biglietteria TickenPoint, si entra proprio nel sito del Timavo e dice la prenotazione, si vedono le barche che sono occupate, le barche che sono libere e possono prenotare online, oppure chi non ha dimestichezza online può andare lì e fare il biglietto. In casi eccezionali persone che vengono da fuori, tipo domani verranno due della Slovenia, le facciamo noi direttamente lì. Sì, sapete che arrivano ed è quello. Allora, ricordatevi dunque questo appuntamento con la risalita delle foci del Timavo e tutto quello che c'è attorno, che si tiene appunto il lunedì, il mercoledì e il sabato fino al 15 settembre. Difatti il 15 settembre è una domenica se non mi sbaglio. No, il 15 settembre… Sì, sì, è una domenica, sono più che… Allora faremo prima, le 14, sì. Lo so per questioni di ferie, quindi è una domenica e poi vedremo anche, magari ci terrà informato su come procede questa iniziativa che vede assieme appunto il Timavo e le grotte di San Canziano in funzione turistica. Grazie e buon lavoro a Serafino Marchio Runet per essere stato con noi. Adesso andiamo in pubblicità. Grazie a voi. E poi il telegiornale delle 13 e 20. Buongiorno telespettatori di Telequattro, benvenuti al nostro telegiornale delle 13 e 20 che si apre con la cronaca. Sono state vandalizzate alcune statue in Villa Revoltella. I gnoti si sono introdotti nel giardino transennato e hanno rovinato e decapitato i manufatti. Quindi il comune ha denunciato tutto ciò. Vediamo il servizio. Siamo nel giardino, nel cosiddetto giardino all'italiana di Villa Revoltella perché purtroppo la notizia in realtà è di due settimane fa ma è emersa solo oggi, in queste ore. Il comune di Trieste ha già provveduto, credo, a fare denuncia. Le statue che erano posizionate qua sono state preda di atti vandalici tirate giù dai loro piedistalli ma alcune sono state anche decapitate. Quindi purtroppo Villa Revoltella torna a essere protagonista come vittima di atti vandalici. Qui ad esempio da questa parte c'è una statua che ha perso la testa e di là la stessa cosa. Sono state brutalmente vandalizzate. Un'area purtroppo molto bella dove tantissima gente viene a passeggiare che però purtroppo siamo vicino alla zona dell'ex SR. Purtroppo molte volte ci tocca raccontare di episodi di vandalismo. Devo dire che obiettivamente quest'area era già recintata, credo forse per manutenzioni o cose simili, però comunque delle persone si sono introdotte qui e hanno distrutto le quattro statue che sono presenti. Quindi un atto vandalico che purtroppo vede di nuovo protagonista Villa Revoltella. Dicevamo il verde pubblico del comune farà denuncia, credo che abbia già ottemperato. Denuncia ovviamente contro i gnoti perché bisognerà capire chi è che ha attentato alle statue. La polizia locale ha arrestato un ventottenne in seguito al furto di uno scooter. A Barcola l'uomo è stato accusato anche di resistenza pubblico ufficiale. Era gravato di plurimi precedenti per furto. Il ventottenne ha arrestato qualche giorno fa a Barcola per resistenza pubblico ufficiale e denunciato per il presunto reato di ricettazione. Infatti, il nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale rintraccia sul lungomare di Barcola un motociclo rubato pochi giorni prima. Gli agenti, in abiti borghesi, dopo aver intercettato il veicolo e averlo seguito per un breve tratto, cercano di fermarlo. Il conducente, alla vista degli agenti, tenta la fuga lungo il marciapiede incurante della presenza dei bagnanti, ma per fortuna viene fermato in sicurezza anche grazie ad altri operatori. Per evitare il successivo controllo, l'uomo pone resistenza. Per contenerlo, si rende necessario l'uso delle manette. Accompagnato alla caserma San Sebastiano con l'ausilio di una pattuglia del reparto motorizzato per gli accertamenti di rito, l'uomo risultava avere plurimi precedenti per furto, ricettazione e resistenza pubblico ufficiale. Per la sua condotta, particolarmente aggressiva e violenta, sentito il PM di turno, veniva pertanto arrestato. Rimaniamo alla caserma San Sebastiano, se vogliamo, perché possiamo collegarci con la sala operativa della Polizia Locale. Buongiorno al Commissario De Grassi. Buongiorno a voi, a lei e a tutti i telespettatori. Cominciamo con il dire che è stata una mattinata, tutto sommato, come anche in questi ultimi giorni, abbastanza tranquilla, anche se il traffico non era proprio di poco conto, visto anche la probabile paura del maltempo. Però non segnaliamo grosse difficoltà, tranne un po' sugli assi di Via Tattaro Romano, dove il parcheggio di San Giusto crea un po' di rallentamenti per le macchine in fila. Abbiamo rilevato un paio di incidenti, se li ho danni, niente di grave, fortunatamente. Ci sono dei lavori da segnalare. In Via del Veltro, tra Via del Destriero e Strada dei Fiumi, c'è uno scavo a Cegas, perciò la direttrice è chiusa, ripeto, tra Via del Veltro, Strada dei Fiumi e Fiumi. Poi c'è una chiusura per uno scavo che si trova all'altezza di Via Ponticello, dal Civico 18 al Civico 20, perciò nel tratto compreso tra Via Valmaura e Via Giardini, perciò non si può raggiungere solamente un tratto di strada da Valle e uno da Monte. C'è stata stamattina una potatura alberi in Brigata Casale, è ultimata, però dalle 14 avremo una pattuglia sul posto, ripeto, in Via Brigata Casale, per lo smontaggio della segnaletica del cantiere temporaneo. Mentre invece abbiamo il cantiere da domani della potatura alberi, sempre a tempo permettendo, in Via Cantù e in Via Slata, per dove ci sono dei divieti di sosta. Per il resto al momento non abbiamo un particolare intervento in atto, il traffico veicolare e modesto vi restituirei la linea. Grazie Commissario De Grassi, buona giornata e buon lavoro. O i flussi passano sotto traccia o i rispingimenti legali continuano. I dati di Frontex ci raccontano che in Grecia, snodo dell'Europa, gli arrivi sono aumentati del 50%. Il Presidente di ICS Gianfranco Schiavone spiega i numeri della rotta balcanica. Innanzitutto va detto che a Trieste questo calo non c'è. I nostri dati ci dicono che c'è una diminuzione intorno al 10%, quindi decisamente più modesta. Meno migranti rintracciati non vuol dire meno arrivi, anche se una contrazione rispetto all'anno scorso c'è. Il Presidente di ICS Gianfranco Schiavone analizza la situazione della rotta balcanica partendo dai dati di Frontex. I dati vanno letti, vanno studiati, una cosa è la propaganda, una cosa è l'analisi scientifica dei dati. Prendiamo quindi gli stessi dati di Frontex, meno 60% di arrivi attraverso la rotta balcanica, più 50% di arrivi in Grecia. Chiunque capisce che questi dati devono essere letti insieme, cioè noi abbiamo un aumento degli arrivi su quella che è la rotta balcanica, perché la Grecia ne è parte, ma abbiamo una diminuzione lungo la rotta. Questo si spiega soltanto in due modi. O c'è una maggiore invisibilità del transito, ci sono in questo momento maggiori respingimenti e maggiori violenze, quindi maggiori illegalità nella rotta, o ci sono dei momenti di maggiore blocco, che poi si tramuteranno in un futuro più o meno veloce, in un aumento dei transiti. La situazione a Trieste in questo momento vede 80 migranti senza fissa dimora all'addiaccio nei vari luoghi dimenticati di Trieste, numeri che non reggono il confronto con l'anno scorso, dove al 20 agosto le persone senza fissa dimora erano 400 e il Silos le ospitava quasi tutte. Dopo la chiusura della faticente struttura, dice Schiavone, la situazione non è migliorata. I migranti sono riusciti a tornare nel Silos, nonostante le transenne, e occupano i vari spazi di Porto Vecchio. Inoltre i lavori per adeguare il campo scout di Prosecco non sono ancora partiti. La situazione sta peggiorando molto rapidamente, nelle ultime due settimane. Al momento abbiamo circa 80 persone richiedenti asilo, senza posto, tra cui almeno una trentina di persone con nuclei familiari, composti anche quindi di donne e bambini, sono 15 minori, le due le donne sole e gli altri uomini singoli. Il sistema della prima accoglienza sta già dando segnali di crisi e si sta riproponendo un'emergenza umanitaria che è attutita dalle condizioni climatiche positive. Ma direi che decisamente il post Silos sta dimostrando quello che purtroppo si temeva, e cioè che non c'era dietro quella chiusura nessun programma. Dopo la riparazione dei danni delle mareggiate, il progetto di Regione Comune per la Barcola del Futuro procede approdando alla fase esecutiva. Ne ha parlato questa mattina durante Sveglia Trieste l'assessore regionale Scocci Marro. Stanno avanti, quindi non chiacchiere, come qualcuno denigrando diceva, ma solide realtà, diceva, la pubblicità di tante anni fa televisiva. I progetti stanno avanti, si sta passando alla fase esecutiva. Il progetto per la nuova Barcola va avanti ed entra nella fase esecutiva. Così l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente, Fabio Scocci Marro, sull'opera che vede impegnati Regione Comune su due interventi distinti, a mare per la messa in sicurezza, la balneazione e le strutture collegate, e arriva per viabilità e parcheggi. Ci sarà un ulteriore confronto con tutti i operatori di interesse, quindi con tutti i cittadini, quindi massimo confronto non solo con i sondaggi. Il progetto è un progetto in collaborazione con il Comune di Trieste, tanto che il progetto, lo ricordo, si chiama CO-RE, Comune-Regione, e quindi si va avanti. Per quel che riguarda la linea mare, il lavoro pre-progettuale è stato affidato a un team multidisciplinare che ha portato a termine una bozza di piano, il quale tiene conto in primo luogo degli usi dei triestini e quindi intende procedere per lotti per mantenere fruibile il lungomare nei mesi estivi, ma anche della sempre più spiccata propensione al turismo della città e dell'accessibilità da parte delle persone fragili. In primis era però importante riparare i danni sulla costa ferita dalle mareggiate d'autunno. Quest'estate si sono fatti le opere di ordinaria manutenzione perché non si possono lasciare il nostro lungomare devastato come era dalle mareggiate di novembre, quindi quello era doveroso farlo, però lo sapete, il progetto è molto ambizioso e Barcola nei prossimi anni non sarà più come quella attuale, ma sarà molto più bella e molto più protetta da quanto riguarda i problemi climatici e le tempeste che indetitabilmente arriveranno. Un anno di lavori al Museo Revoltella senza che l'attività della struttura ne risenta, il Comune mette mano al museo a disposizione complessivamente 1 milione e 250 mila euro. Negli ultimi anni il Museo Revoltella ha svolto un ruolo essenziale affinché Trieste raggiungesse l'obiettivo fondamentale che il Comune si era posto, fare in modo che la città, le sue strutture e le iniziative culturali, anche Trieste Estate rientra in quest'ambito, fossero vissute dai turisti e dai triestini a prescindere dalle proposte stesse. Ora è giunto il tempo di ricompensare in qualche modo il museo. Per un anno, senza sospendere l'attività della struttura, il Revoltella sarà interessato da una serie di interventi alla fine dei quali esso sarà restituito alla città più nuovo e moderno. Gli investimenti che noi oggi vogliamo fare sono sostanzialmente quattro. Il primo che riguarda l'accoglienza di per sé e quindi interverremo con una disponibilità finanziaria nel PNRR per rifare le biletterie, i bookshop, i servizi. Ad esempio, ci sarà un servizio d'accoglienza per chi deve depositare qualcosa. Si procederà inoltre alla riqualificazione completa della Sala Scarpa per le mostre ospiti e a quella dell'auditorium Sofianopolo. E dopo io spero anche di riuscire finalmente ad aprire un punto di ristoro. Tutti i musei internazionali hanno questo, quindi uno va a visitarli anche per prendersi un caffè, per fare un momento di pausa. Il comune potrà attingere a 500 mila euro provenienti dal PNRR e da altri 750 mila euro garantiti dalla tassa di soggiorno. Il quinto piano del museo vedrà poi la riconsiderazione degli allestimenti e dell'illuminotecnica anche per accogliere la collezione Luciani. Quindi si metterà a mano i pannelli guida, i totemi e l'assistenza tecnologica per valorizzare anche il patrimonio proprio del museo. L'intervento a Revoltella non è il solo che il comune ha in mente per rinnovare il proprio patrimonio museale. Uno di questi riguarderà anche il castello di San Giusto. Una cosa che mi auguro ad esempio di fare è riuscire a sistemare un nuovo collegamento, un ascensore che è dalla biglietteria, da quello che è il piano terra del castello a Livi fino alla Sala d'Almi che sarebbe il secondo piano del castello passando attraverso la quota bar e bastione rotondo che è quella poi la più panoramica di tutte. Da domani nelle aree verdi di Gorizia partirà la seconda fase di disinfestazione dalle zanzare un processo che da parte della cittadinanza richiederà solo alcuni piccoli accorgimenti nelle ore serali come il ritiro dei propri indumenti dai balconi. Al via il secondo ciclo di disinfestazione delle zanzare nelle aree verdi e nei parchi del territorio comunale di Gorizia. Le operazioni inizieranno domani mercoledì 21 agosto per proseguire poi nelle due serate successive. Si procederà dalle 22 nelle aree verdi recintate e dalla mezzanotte in quelle non recintate. Per i residenti nelle aree confinanti con i parchi e le aree verdi oggetto di procedura ci sono alcuni accorgimenti da osservare ovvero chiudere finestre e balconi tenere al chiuso animali domestici coprire con teli eventuali colture e orti non esporre il bucato e il giorno successivo all'intervento lavare eventuali giochi per bambini tenuti all'aperto. Le aree interessate dalla disinfestazione saranno accessibili a partire dal mattino del giorno successivo alla data del trattamento. Il prodotto utilizzato ovvero CY10 Cpermetrina 10% un presidio medico-chirurgico è irrorato in modo mirato solo nelle zone indicate. Il 21 agosto dunque giardini pubblici di Corso Verdi compreso il verde di via Cadorna Parco della Rimembranza Parco dei Principi a Piedimonte a Sant'Anna Parco Giuseppe Marvin tra via Garzarolli e via Max Fabiani e Parco Vittorio Bolaffio tra via Max Fabiani e via dei Faiti giardinetti in via Udine a Lucinico area verde di via Brigata Pavia antistante la chiesa Straccis giovedì 22 agosto area verde attrezzata di Piazza Fiume a Campagnuzza area verde del Baiamonti esclusi campo sportivo e aree pavimentate area verde di via Romagna di fronte all'asilo comunale piazzale Seghizi in Borgo Castello giardinetto di via Fratelli Cossar all'angolo con via Cipriani Parco Giochi nell'area verde di via Rocca a Montesanto in via Montelungo area verde di fronte agli edifici Ater di via Lasciac Cvc dal 17 al 27 venerdì 23 agosto interessate l'area verde della casa di riposo Angelo Culotto e del vivaio comunale l'area verde del centro Lenassi di via Vittorio Veneto all'area verde interna del centro Polivalenti di via Baiamonti l'area verde del centro alloggio Anziani di via della Campagnuzza ci fermiamo per un po' di pubblicità poi torniamo con altri servizi rimanete insieme a noi Rientriamo in studio alla cerimonia di intitolazione ieri al dottor Micheletti del giardino dell'ospedale maggiore era presente anche la signora Silvana Zimuel testimone da bambina della strage di Bergarolla l'abbiamo intervistata Ricordo che ero contenta perché andavo a giocare con i miei amichetti come facevo tutte le giornate che papà mi portava in spiaggia perché su quelle maledette mine noi ci abbiamo giocato già un sacco di altre volte però nessuno si è mai preoccupato perché giustamente avevano detto che erano che erano disinnescate ma gli alleati che dovevano governare dovevano controllare la sicurezza della popolazione mica si sono preoccupati di disarmarle c'erano 28 tonnellate di tritolo era solo una bambina Silvana Zimuel testimone sopravvissuta alla strage di Bergarolla di quel 18 agosto del 46 la signora ha un ricordo vivido e in diverse occasioni per non disperderne la memoria porta ai più giovani il suo racconto lucido e documentato l'eroico dottor Micheletti lei lo conosceva bene per motivi familiari l'ho conosciuto perché era era un amico di papà abitavamo proprio vicini di fronte all'ospedale Santorio di Pola papà ne parlava sempre entusiasticamente diceva mi ha salvato la vita perché ha avuto un'emorragia gastrica da ulcera perforata ed è stato operato immediatamente da lui e per salvarlo lo ha tenuto più di una giornata avvolta avvolta in un telo con il ghiaccio tutto intorno al corpo per fermare l'emorragia quindi a quei tempi forse non c'erano altri sistemi per bloccare che immagine ha di quella giornata terribile? terribile non ci posso ripensare più mi sono dovuta far psicanalizzare perché questo trauma mi ha veramente questo al quale poi si è aggiunto il trauma della partenza con la motonave toscana quindi entrano nel vivo i lavori per mettere in sicurezza le condizioni del manto stradale nell'area di ingresso a Muggia causa il deterioramento delle volte che reggono i canali sotterrani vi riproponiamo il servizio che fa il punto ed illustra questi lavori che hanno una ricaduta sulla viabilità in ingresso e uscita siamo proprio sopra quella che la parte finale dei due torrenti che si incrociano vanno a confluire in mare e questo è il tratto ammalorato che dopo le ispezioni da parte dei sub si è evidenziato che c'è praticamente un rischio di tenuta proprio della volta che copre i torrenti stessi volte a rischio cedimento sui torrenti sotterranei questo è il motivo dunque dei lavori urgenti che hanno fatto scattare questa mattina una vera e propria rivoluzione viaria all'ingresso di Muggia a cominciare dal restringimento di carreggiata che interessa il tratto di via Battisti e largo caduti per la libertà come spiega il sindaco Paolo Polidori anche con l'ausilio di una mappa della nuova viabilità il primo intervento di restringere la carreggiata mantenendo i due sensi di marcia però anche questo è un primo intervento al quale seguirà un altro diciamo ancora più di messa in sicurezza dove si andrà ancora più in là perché il senso di marcia verrà mantenuto in direzione diciamo da via Battisti verso il centro e quindi il flusso che andrà verso Trieste dovrà essere percorso da via Frausinche qui alle nostre spalle sarà invertito il senso di marcia di via Santa Barbara che è prima dell'hotellido per intendersi questo per creare una specie di rotatoria e permettere quindi ai mezzi e ai veicoli che vengono da via Roma di entrare tranquillamente di accedere a Caliterno o andare verso la zona del litorale anche le linee di autobus verranno interessate dalle modifiche in particolare il percorso della linea 47 la precarietà delle volte ha spinto l'amministrazione ad agire in fretta e le nuove modalità non avranno purtroppo vita breve i tempi per quanto riguarda gli interventi non saranno brevi perché bisogna andare appena a progettare a passare nelle varie commissioni per quanto riguarda la tenuta delle strutture per quanto riguarda l'antisismica e poi appena fare la gara l'affidamento ai lavori per cui sarà una viabilità che durerà in questo modo per parecchio tempo e ovviamente i disagi spero e penso che saranno il più contenuti possibili però non ci sono ecco questo voglio sottenerlo non ci sono alternative questo tratto di strada deve essere assolutamente chiuso il prima possibile perché non ci sono praticamente più i ferri che tengono la volta il 2 settembre partiranno i lavori per il cosiddetto Terminal Noghere del porto di Trieste la questione è nota mano a mano che ci si avvicina l'avvio del cantiere emergono nuovi dettagli anche sulle tempistiche dell'opera lo scalo di Trieste lo scalo di Trieste si appresta ad avviare i lavori destinati ad aggiungere nuova capacità portuale si tratta nello specifico del nuovo terminal multifunzionale di Noghere per il quale un avviso della Capitaneria di Porto informa che del prossimo 2 settembre partiranno i lavori di costruzione presso il canale navigabile le opere dovrebbero terminare il 31 dicembre del prossimo anno a riferirlo è il quotidiano online Shipping Italy i lavori di banchinamento sono affidati a un raggruppamento di aziende guidato da Taverna e di cui fanno parte anche RCM Costruzioni e Vienini il valore dell'appalto è di circa 33 milioni e comprende dragaggi e interventi di collegamento alla viabilità le opere preparatorie all'insediamento di attività logistiche industriali in zona Noghere erano stati invece affidati alla società Idea e Adria Strade per 15 milioni e 100 mila euro mentre il cantiere a mare è appannaggio dell'autorità portuale Giuliana e beneficia di fondi PNRR per oltre 49 milioni di euro i lavori di banchinamento risulteranno in un accosto di 350 metri di lunghezza con una profondità di fondale da 11 metri la riqualificazione dell'area ex Aquila vedrà protagonista la società pubblica ungherese Adria Port che opererà come terminalista e vedrà creare un corridoio intermodale diretto con l'Ungheria per l'import-export di merci secondo i progetti banditi dall'autorità portuale un anno fa con il banchinamento parziale del terminal Rorò Nogheria nel porto di Trieste l'ente stima un volume aggiuntivo di traffico pari a 300.000 TU equivalenti con una quota modale ferroviaria pari a 2.500 treni l'anno Mancano pochi giorni all'inizio del campionato di Serie C la Triestina sta ultimando l'allestimento della Rosa Un attaccante un esterno e all'occorrenza un difensore centrale sono le caselle che la Triestina potrebbe riempire per concludere la Rosa degli acquisti di questa sessione estiva volta a rafforzare il gruppo che come palesato più volte dal club ha intenzione di giocare nei piani alti del campionato alle porte porte che si fanno sempre più vicine visto che la gara d'esordio in Serie C è fissata per sabato 24 agosto alle 18 allo Stadio Rocco quando l'Unione si troverà di fronte l'Arzignano e che il mercato possa portare elementi nuovi utili alla causa a torneo incominciato non è nulla di strano anzi ormai aspetto consueto visto che spesso gli ultimi giorni di mercato regalano qualche sorpresa più nelle massime serie va detto la Triestina oggi può schierare in attacco Etuvertainen e Raimos Krollis 25 anni il primo 22 il secondo più l'opzione un po' adattata del 18enne Stigur Tordarsson un reparto che per confermare gli obiettivi nobili potrebbe completarsi con l'arrivo di un ulteriore centravanti anche con esperienza della categoria al nome che circola da tempo di Mattia Bortolussi del Padova l'indiziato numero 1 in questi giorni si sono fatti anche quelli del 32enne Luca Tremolada in uscita dal Modena Andrea Lamantia o Davide Dio guardando a centrocampo la situazione è differente vista l'attuale abbondanza di elementi in squadra distinta anche da una qualità che in Serie C non è usuale se il mercato non porterà via Correa oltre a lui la mediana dell'Unione annovera giocatori come Voza San Buva Locchia Attis D'Urso solo per citarne alcuni in uscita Fofanà che proprio per il numero importante di compagni di reparto potrebbe non trovare molto spazio all'appello mancherebbe un esterno ruolo dove Elazrak può adattarsi e dove al momento sono presenti Attis e Vicario per la difesa l'arrivo di Frarre non ha concluso le ricerche del club visto che si ricorrono le voci di un possibile addio di Rizzo in quel caso la dirigenza si metterà sulle tracce di un sostituto magari Mancino in modo da avere a disposizione i giocatori con le caratteristiche tecniche richieste da mister Santoni a inizio preparazione è tutto il telegiornale ritorna alle 19.30 buon proseguimento vi ricordo Trieste in diretta alle 18 arrivederci e più tardi buon pomeriggio